Tu ci tenevi a fare bene in questa partita, non solo per il risultato dell'unice, ma perché eri uno dei tanti ex di questa sfida. Ma al di là di questo, ti chiedo qual è stato il primo impatto subito con Mr. Tudor. È chiaro che non avete avuto tanto tempo per prepararla con il gruppo al completo questa partita, ma ad esempio chiedo a te, con questo ritorno alla difesa a quattro, si è stati comunque solidi e la porta è rimasta inviolata. Sì, ci tenevo come ci teneva tutta la squadra. Sapevamo che era una partita comunque molto importante e l'avevo detto anche in settimana che in casa dobbiamo provare a prendere tutti i punti possibili che ci sono a disposizione. Poi il mister è arrivato molto carico, non lo conoscevo e mi ha fatto una bella impressione. Ha cercato di darci tre o quattro consigli, giusti, pochi, ma quelli che ci servono. Quanto era importante ripartire con il nuovo mister dopo la sosta con il piede giusto e con una vittoria importante? Perché l'hai detto anche tu, questa era una gara che nello sviluppo della stagione conta tanto. E soprattutto ti chiedo da un punto di vista anche mentale, tornare a riavere quella consapevolezza per affrontare al meglio queste dieci finali che vi separano alla fine del campionato. È importante perché ti dà fiducia per le prossime partite. Adesso andiamo a Milano dove cercheremo di fare la stessa gara anche un po' meglio e poi avremo anche un altro scontro diretto importante contro l'Empoli. Quindi quando vince ti dà fiducia per il futuro.